Tutto era cominciato con una lettera spedita in Vaticano, poi Papa Francesco telefonò a Padre Giovanni lo scorso 6 aprile, promettendo presto una visita al centro a Stalli dei Gesuiti di Roma per i rifugiati. E così tra 15 giorni quella visita ci sarà all'ora di pranzo alla mensa dei poveri. Verrà il 10 settembre in orario in cui la mensa funziona, in modo che possa incontrare quelli che quotidianamente hanno bisogno della mensa ma degli altri servizi primari. Ogni giorno qui vengono serviti oltre 400 pasti, senza contare donne e bambini a cui è concesso saltare la fila, un numero sempre crescente di poveri che chiedono di poter fare una doccia, di avere un po' di ristoro e un pezzo di pane. Il Papa siederà a mensa a mangiare con i rifugiati? Questo è uno dei particolari che non sappiamo ancora perché sono in atto delle proposte e ci verrà detto cosa sarà possibile e cosa non sarà possibile. Credo, conoscendo Papa Francesco, che tutto si svolgerà in maniera naturale, così come sono sempre stati i suoi incontri.